Il nostro viaggio comincia così, con l'iPhone Nonostante siamo di Catania, ci stiamo imbarcando a Catania Intanto, visto che siamo all'inizio, dove stiamo andando? Stiamo andando in Norvegia A dare schiaffi sulle chiappe alle renne Perché dice che non si tolgo la strada Non si danno schiaffi alle renne Ma scherzavo, schiaffetti sulle chiappe, effettuosi Perché se loro non ti spostano, non ti fanno passare, gli danno schiaffetto, no? Ok Allora adesso stiamo andando a imbarcarci Non smette mai di parlare Sì Eva, ma l'aereo dove l'hai visto? Sì, l'aereo Siamo al porto La nostra nave dov'è? Lì di fronte forse La nostra nave sembra una città Non è l'ingresso, noi siamo andati all'altra parte Ora siamo andati a sinistra a un incrocio Incroci dentro la nave Questi dosi sono proprio a spaccare i copertoni Vedi? Qua c'è la casa dello zio Tom A sinistra il pub Non ho parato E a destra il posto di blocco Nooo Andiamo a caccia della cabina 510 510 Com'è il letto? Amato Il mare è piantissimissimo E dove siamo adesso? A Salerno Noi siamo andati in ovezza E vediamo tante renne Possiamo dare schiaffi nel culetto alle renne? Sì Ma solo se non si fanno passare Siamo scesi adesso dalla nave Giusto Eden? Sì Abbiamo preso la nave a Catania Siamo arrivati a Salerno Così abbiamo dormito tutta la notte Nella nostra bellissima cabina E siamo belli riposati Visto che io il giorno prima Ho dormito 4 ore e mezza Non sarebbe stato il caso di forzare Perché siamo partiti il venerdì Uscito da lavoro Volevo partire subito Poi abbiamo trovato questa nave last minute E quindi il primo pezzo di Catania Salerno Ce lo siamo sparagnato di guida Adesso siamo freschi freschi Sono le 12.20 E quindi oggi ci dovremmo spolpare Secondo la tabella di marcia 811 chilometri Tappa pesante 811 chilometri E arrivare verso le 7 di 6 A Trento O a riva del Garda Sei svegliata col VIP della GoPro No 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 Io ero convinto che fosse un po' sorda Invece in realtà le parlavo e dormiva E non mi rispondeva Che squadra eh Facciamo i cambi alla guida Così andiamo più in fredda Abbiamo un problema Non aspetta di parlare Dall'ultimo filmino Sentite Mamma papà salvate la molletta No mamma papà Mamma papà Papà di la molletta Arriva Cioè Nessuno la vende Edda ne ha rubato la molletta dalla testa Perché ha visto che si attacca alla sua canna da pesca Con la calamita Mamma papà salvate la molletta Per fortuna Mancano soltanto Appena Altre 4 ore e 47 minuti Per oggi Per arrivare a te Mamma papà Salvate la molletta E allora Aggiornamento Sono le 8 e un quarto Solo dovrebbe tramontare alle 9 Stiamo ancora decidendo dove andare A dormire Opzioni Torbole Dove pare ci sia un parcheggio Particularmente panoramico A scrocco Riva del Gard A 10 minuti di distanza Dove siamo già stati Dove c'è un'area di sosta Che costa poco Quanti euro Ce ne usciamo E un bel panorama Per fare state Una passeggiatina Sul mongolago Oppure Il mitico Ettore Che vedrà questo filmato Su YouTube Oltre a vendere Lo Volkswagen California E' essere preparatissimo Sul California Mi preparatissimo pure Sui posti Succosi Quindi a pranzo Senza preavviso Mi mando un messaggio a Ettore Ti dico Ettore Stiamo andando in Norvegia Vorremmo sostare Delle tue parti Le sosta libera Compareremo Stai chiesto Ti viene in mente qualcosa Mi ha mandato Tac 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 Almeno 7 link Direttamente Su Google Maps Con posti Tra cui scegliere Purtroppo Stiamo arrivando Un po' lunghi Perché insomma Arriveremo alle 9 e mezza Ma ci dovrebbe essere Ancora sole Per cui Alla grande Mi dico Più tardi Vedrete Come va a finire Stiamo spattacando Un sacco di moscerine Oggi giornata Stancante Scusate Vanno a 800 km Domani Cominciamo a fare Delle tappe Più relazionali In realtà C'era Eva Che si voleva Staccare un dito Perché non le piaceva più Ed Eva Ha detto Papà Glielo stacco io Dopo aver staccato la testa Alla bambuna A dopo Non aggiungo altro Questo è un view point Stupendo sul lago di Garda Siamo arrivati Al momento giusto Per vederci questo spettacolo E stavamo decidendo se dormire qua O no C'è un posto fantastico Questi tavoli Per poter fare colazione E il pan E il pan è lì Bel bello Che ve ne fare Che vite Non so se riusciremo a dormire qua Ci cacceranno via Lo scoprirete Vieni tu Guarda dove ti ho portato Ho le uova sode Mangiamole subito Mangiamo le uova sode Svegliati Non so che sono Ancora più che sono Guarda dove ti ho portato Non si vuole svegliare Non si vuole svegliare